Ciao, se sei un agente che lavora nel digital oppure provieni dalla telefonia o similari, oggi voglio parlarti di un'azienda che opera nel settore della digitalizzazione delle piccole e medie imprese, offrendo delle peculiarità sicuramente molto interessanti sia per il mercato ma anche per gli agenti con cui intendono collaborare. Per capire perché questa opportunità è veramente così interessante, ti consiglio di guardare questa videointervista, alla fine della quale ti darò anche le informazioni per poterti candidare. Sei un agente, venditore e un professionista della vendita? Benvenuto su tuoagente.com, dove ogni settimana intervistiamo per te le migliori aziende con cui collaborare. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere in anteprima tutti i video dedicati al mondo della vendita. Buongiorno a tutti, oggi sono qui con Filippo Demetrio che è direttore commerciale di Smart Easy, benvenuto Filippo. Grazie. Allora, mi hai parlato di una realtà molto interessante che è Smart Easy e ora ovviamente l'andiamo a condividere, anche con le figure commerciali che stanno guardando questa videointervista. Quindi ti chiedo, Filippo, di raccontarci perché il cliente sceglie proprio voi. Smart Easy fa parte del gruppo di Ennova SPA, un'azienda che ha come partnership una partnership con Team e con Edison e lavoriamo su tutto il territorio nazionale. Il nostro obiettivo è quello di portare il cliente verso la trasformazione digitale. Il cliente perché ci sceglie? Ci sceglie perché noi ci prendiamo cura del cliente, perché mandiamo delle figure, dei consulenti professionali che sono in grado di capire quali sono le esigenze, di approfondire anche, di proporre anche magari dei servizi a cui il cliente stesso non aveva pensato. Il cliente viene eseguito passo passo anche dopo la stipula del contratto. Ok, prima mi hai parlato anche di un aspetto molto interessante, ossia il fatto che fondamentalmente voi per il vostro cliente potreste rappresentare un partner a 360 gradi per i servizi che offrite. Sì, perché oltre, come dicevo, ad essere partner di Team ed Edison, noi abbiamo anche la possibilità di dare dei servizi che sono anche di nostra proprietà, come per esempio lo Schillo, che è un sistema di monitoraggio della rete e della connettività del cliente che in tempo reale avvisa il cliente stesso che c'è un disservizio e avvisa il gestore di competenza, oppure dai centralini che vendiamo e che installiamo noi. Altra cosa importante che dà un servizio in più al cliente è che una parte dei contratti che noi facciamo, delle connettività, ce le installiamo direttamente con un gruppo di tecnici nostri. Ok, bene. In questo momento siete ovviamente una realtà in espansione, ricercate collaborazioni con figure commerciali. Ci spieghi dal tuo punto di vista le caratteristiche che ovviamente renderebbero un profilo interessante con cui vorreste collaborare? Allora, innanzitutto deve essere una persona curiosa, che abbia voglia di crescere e di formarsi. Le caratteristiche che deve avere il venditore, possibilmente, deve avere già un'esperienza pregressa nella vendita. Se è nella telecomunicazione, nell'energia, per noi magari è più facile che sappia stare in un gruppo, che sia orientata agli obiettivi e che abbia tanta voglia di crescere professionalmente. Siccome, come dicevamo, siamo un'azienda in espansione, stiamo crescendo, c'è anche la possibilità poi magari di far carriera e di crescere. Bene, senz'altro questo è un aspetto molto interessante per chi ci sta ascoltando sull'aspetto della carriera. Oltre a parlare di questo, ti chiedo, in che modo rendete il vostro collaboratore, insomma la figura con cui intendete collaborare, forte sul mercato? Allora, come ti dicevo prima, con una formazione costante, quindi lo facciamo anche crescere professionalmente, quindi non solo con una formazione di prodotto, ma anche crescendo le proprie conoscenze tecniche di vendita, di gestione del cliente. Inoltre, diciamo, dietro alle spalle è una struttura forte e ben organizzata che quotidianamente gli fornisce degli appuntamenti. Abbiamo un CRM, che è un unico strumento attraverso il quale il venditore poi può far tutto, vede gli appuntamenti, vede lo stato pratico dei contratti che ha chiuso e vede in tempo reale anche le provvigioni che ha maturato. Banalmente abbiamo delle provvigioni che sono molto interessanti e sono a livelli più alti del mercato, perché su alcune tipologie di venditori diamo anche un fisso mensile. Team ci dà dei clienti a portafoglio, sui quali bisogna fare un'attività un po' diversa, bisogna fare assistenza e di supporto su questi clienti, che sono clienti con cui ti fascia molto più alta. Bene, senz'altro sono degli elementi interessanti. Ti faccio quest'ultima domanda, Filippo. Per quale motivo gli agenti o venditori che stanno guardando questa videointervista adesso dovrebbero seriamente valutare questa opportunità? Perché hanno la possibilità di entrare in un'azienda che può far accrescere molto la loro professionalità, perché hanno la possibilità di vendere non solo per due brand importantissimi come Team e come Edison, ma anche di poter vendere anche altri servizi che vanno a completamento dell'offerta che possono raccontare al cliente e perché hanno la possibilità di essere supportati dal cliente finale con una struttura molto organizzata che oltre a fornire gli appuntamenti permette quindi al venditore di vendere serenamente e di metterci la faccia dal cliente perché sa che poi dietro c'è una struttura che lo supporta. Bene, Filippo, ti ringrazio per averci descritto la realtà di Smart Easy e a te come anche alle persone che ci stanno guardando auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, Nicola. Grazie. Buona giornata.